Dalla bellissima Fiat 500C del 1953, la mitica Topolino usata da tanti italiani, fino alla più moderna e potente, Ferrari 599 GTB Fiorano, un bolide da 620 CV con una linea inimitabile. Sono solo alcune delle tante auto che finiranno all'asta, mercoledì 29 novembre, all'Istituto di Aste Giudiziarie di Pavia e Lodi, in via Saragat. Un appuntamento aperto a tutti dove chi offre di più potrà portarsi a casa modelli pregiati, non solo di auto ma anche di motociclette, visto che tra le tante offerte c'è anche un Harley Davidson. Il pezzo pregiato però, spiegano gli esperti, sarà sicuramente la 599. Presentiamo questa bellissima Ferrari, che è la Ferrari 559 CTB, è bellissima, non c'è un graffio, dove mercoledì prossimo, il 29 alle ore 16, ci saranno le aste della Ferrari, del Topolino, dell'Harley Davidson e altre autovetture. Ferrari con grande serietà, saluta tutti, fa un inquieto se ne va.